Per quanto intrisa di polemiche, la vicenda dello stadio di San Siro sembrava aver trovato venerdì scorso un punto fermo. Niente più stadi a San Donato e a Rozzano, unità di intenti e soprattutto dei portafogli da parte delle squadre con il solo obiettivo di tornare, con un nuovo impianto, nell'area del Meazza. Eppure sono bastate poco più di 24 ore perché quelli che sembravano essere i nuovi punti saldi della questione tornassero a traballare. Lo scossone è arrivato addirittura dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, che non aveva partecipato al vertice di venerdì mattina a Palazzo Marino. Nulla è deciso o scontato, ha affermato nel fine settimana. L'idea di un ritorno a San Siro la seguiamo, ma la nostra priorità numero uno è San Donato, che è l'ipotesi che in questo momento preferiamo. Una retromarcia sulla retromarcia, insomma. Il tutto nell'attesa di capire, in teoria già questa settimana, cosa uscirà dal nuovo incontro tra i club, il comune e la sovrintendenza, dove si dovrebbe fare chiarezza sulla natura del vincolo sul secondo anello in caso di un passaggio di proprietà da pubblica a privata. Il rapporto tra club e Palazzo Marino dunque potrebbe tornare ad incrinarsi, a solo poche ore, da quella che sembrava una ritrovata serenità. Eppure la proposta emersa venerdì di vendere l'intera area del Meazza ai club e di permettere loro la costruzione di un secondo stadio a pochi metri dalla scala del calcio potrebbe causare attriti anche all'interno di Palazzo Marino. Già perché fuori dalle mura comunali, ambientalisti e verdi hanno già fatto sentire il loro disappunto e scenderanno in piazza il prossimo 27 settembre contro il nuovo consumo di suolo. I dubbi però hanno trovato terreno fertile anche all'interno della giunta. La nostra idea è quella che comunque effettivamente noi di suolo ne dobbiamo consumare meno possibile, ma questo del resto l'ha detto anche il nostro sindaco non più di qualche giorno fa. Anche di fronte a tutto quello a cui stiamo assistendo oggi in termini di necessità di rendere i suoli sempre più drenanti, ecco prima di pensare di continuare a costruire anche un nuovo stadio facciamo qualche ragionamento e cerchiamo di capire qual è la soluzione migliore perché Milano deve depavimentarsi e diventare più drenante e non diventare sempre più densa e quindi anche rispetto ai problemi che ogni 10-15 giorni dobbiamo affrontare.